Corsia quattro Francesco Peron, oro ai categoria nei cento stile libero al suo fianco Thomas Ceccon più giovane classe duemila uno che ha vinto nove medaglie d'oro fra categoria e giovanili nella stagione scorsa Ieri Ceccon argento nei duecento alle spalle di Barison, in questo momento sembra davanti il primato del meeting 26 e 53 di Gazzola Chiude Ceccon con 25 e 98, Thomas Ceccon davanti a Francesco Peron 27 e 26, Deano 28 e 50